Ascolta Puzzle, ti ho chiesto di vederci perché ne ho avuti un'idea. Cosa ne dici se ci ricordiamo di nuovo? Sei pazzo? Ci saranno ci saranno. Vediamo. Ragazzi, iniziamo l'allenamento oggi, come vi sarete sicuramente accorti. Sono due giovani promesse per cui facciamo vedere di essere bravi e ospitali di accordi di come si vede. D'accordo? Io lo so. Andre, ma tu li hai già visti questi qua? A me ne sembra. Sì. Sei convinto? Guarda la copia, vai. Sì, dai. Via! Se cav mm. Covid-19. Nel caso, mi sa che è questo il nostro posto, altro che là. Non ce la facciamo più a star lì, meglio che li guardiamo da fare il profitto quest'anno. Direi di sì. Abbonatevi anche voi alla Tonazzo Padova. Tonazzo Padova, la passione ad inganto. Ma scusa me, secondo te ce la facciamo?